Come far partecipare i cittadini al processo legislativo e io lo trovo fondamentale questo tema, fondamentale per riuscire a accorciare quella distanza che c'è oggi tra le istituzioni e i cittadini, cioè farli partecipare in modo diretto, dare loro voce, dare loro un empowerment che richiedono peraltro in tutte le sedi dai social media alle manifestazioni di piazza.